e ciao a tutti ragazzi qui Alec e oggi siamo qui per il 64esimo episodio della serie del mondo di Alec l'ultimo episodio abbiamo fatto la farm d'oro e oggi andremo a fare come avete letto una farm molto particolare non so se la finiremo in questo episodio ma sicuramente daremo l'idea di come va costruita poi la ritoccheremo mano a mano perché è una farm che in realtà non è... cioè è fatta in una maniera precisa però adesso andiamo a vedere perché neanche la fortezza che noi abbiamo eccetera ho già lavorato molto off camera adesso vi faccio vedere tutto quello che ho fatto questo perché la farm di Wither? la farm di Wither perché dobbiamo andare a costruire diversi beacon per avere diversi bonus all'interno di una grande area nel nostro villaggio quindi bisogna uccidere più volte il Wither con il bug ovviamente non come l'ultima volta abbiamo fatto un bordello e per batterlo c'è bisogno di tante teste e se non c'è una farm ci si mette veramente tanto a farmare tre teste quindi se bisogna battere tanti Wither abbiamo per sorsa bisogno di una farm sicuramente detto questo prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al gruppo Telegram per avere la feed del canale ogni volta perché io sul canale Telegram posto ogni volta il link del video quando esce quindi lì avete la feed sicura mi raccomando altrimenti attivate la campanellina vicino al tasto iscriverti per avere in maniera più sicura la feed anche se alcuni mi hanno detto che non gli arriva comunque bah youtube di merda voglio ringraziarvi per i like ragazzi superiamo i 500 like so che lo potete fare quindi mi raccomando ricordate sempre di spolliciare e commentare per finire nella casa degli iscritti perché il fortunato dello scorso episodio è stato Dimo Dimo che in realtà ha suggerito una cosa che però non sapevo alcuni diranno ma è stupida Alec ma io non la sapevo e effettivamente è stato anche il commento con più like 35 like ed è stato l'ossidiana si può farmare nel land distruggendo le torri che rianimano il drago durante la battaglia e effettivamente c'è ragione lì c'è una quantità enorme di ossidiana c'è anche il modo che ho suggerito io nell'ultimo episodio perché non è stato visto andato a vedere c'è il link qui in descrizione nella farm d'oro per farmare ossidiana con il bug dei portali però effettivamente finché ci sono quelle torri c'è ossidiana free senza fare tutto quel bordello vero quindi ti sei meritato un posto nella casa degli iscritti Dimo episodio 63 perfetto qui c'è il coniglio pasquale che non è stato un episodio ufficiale della serie è stato lo speciale di Pasqua che è uscito sabato e quindi tipo ieri in realtà no l'altro ieri perché oggi è lunedì che lo vedete questo episodio e qui c'è questo coniglio che molti hanno detto Alec ma sembra un cane ma io dico ma porco di quel porco ma veramente vi sembra un cane ma che cazzo di cani vedete sta su quattro zampe tutto ragginolato c'ha le orecchie così ma che cane è a me sembra un coniglio come avete detto al posto del monore metti il rosa sì quello magari si può fare effettivamente ma non mi dite cazzo mi ha un cane perché è un coniglio cazzo non so voi che cazzo di cani conoscete anche perché non è che l'ho inventato io fatto così ma l'ho preso da un progetto di un coniglio di Pasqua quindi cioè ragazzi è un coniglio punto e basta l'entrata sta qua molti mi hanno detto di farla automatica ma non ha molto senso secondo me per una farm di conigli e questo è lo spazio che ho ritagliato per la farm ovviamente ho farmato l'ana off camera e l'ho messa e ho illuminato con l'alluminite perché la preferiva le torce e qui dovrà essere tutto recintato e questo spazio verde dove andranno i conigli toccherà trovarli toccherà farci una farm la faremo più in là non ci interessa adesso perché adesso la priorità è fare la farm di Wither in questo episodio farmare Wither nel prossimo e andare a sconfiggere e animare diversi Wither per poi tra due episodi quindi andare a fare attivare diversi beacon e andare a vedere cosa sono per poi tornare nel void a prendere l'Elytra e ricominciare col progetto della muraglia enorme intorno a tutta l'area dove costruiremo questa stagione poi dovrò fare la stalla che è ancora in sospeso qui lo so molti mi hanno detto ma Alec ma la stalla con questo villager inchiuso da diversi episodi qui dentro che è quello che vende le selle e lo so qui pure devo fare la farm di pesca ho fatto lo spazio non l'ho più fatto diversi progetti fermi la bagaga lì è piena di roba da fare però ragazzi in base a quello che succede poi nei vari episodi le cose cambiano qui ho delle box molti lo hanno notate questa è vuota perché in realtà ne ho fatte due perché guardate il materiale con immediato perché ho distrutto parte della fortezza per allargarla cosarla ho tanta colpa sull'inventario perché già ne ho usata molto lì adesso vedrete per cosa ho tante staccionare tante scale perché ho distrutto un bel po' di roba adesso andiamo a vedere quindi sblocchiamo e apriamo perfetto andiamo nel nether e però ho 31 livelli quindi volevo incantare qualcosa perché no un libro e vediamo cosa esce dato che siamo qua lo facciamo abbiamo 30 livelli che cosa ci dà il destino protezione dai proiettili 4 bella merda affilatezza 2 è una tema 1 una merda insomma prendiamolo vediamo se esce qualcosa no è uscito da solo perfetto 3 livelli buttati nel cesso ovviamente ragazzi ho scavato tutti i miei materiali il piccone è sempre nuovo perché ho farmato anche i livelli nella farm per ripristinare proprio il piccone perché il piccone siccome l'avevo consumato abbastanza quasi più della metà ho detto vabbè vado a farmare un po' di livelli e lo ripristino qua perché ci mancano dei blocchi ah qui perché avevo fatto spawn ai portali per il bug eccetera tu pigman devi morire fondamentalmente 3 pepite il pigman ah perché abbiamo e un lingotto così perché abbiamo la spada nella farm d'oro con looting 3 nella farm d'oro ragazzi intanto che andiamo alla fortezza mi avete consigliato di qui devo fare ancora la ferrovia lo so devo fare ancora la farm di blades lo so mi avete consigliato che di mettere al posto di cactus i magma block perché con i cactus si perdono i drop ed è vero perché chi non lo sa se io tiro una cosa addosso a un cactus questa sparisce qualsiasi essa sia quindi c'è possibilità che un drop droppato male va addosso al cactus e sparisce quindi magari non lo so il 10-20% dei drop si perdono vero però è pure vero che i magma block non funzionano ragazzi non fanno danno ai pigman i magma block perché sono unità infernali o almeno credo poi non ne sono troppo sicuro qui chi c'è è baggato quindi non funziona e dovrò lasciare i cactus però allora o farò un sistema di di soffocamento o addirittura dato che comunque quello di soffocamento anche se lavorano i ritorni dovrebbe funzionare e rendere stavo pensando invece di ucciderli lasciarli lì e ucciderli io con la spada con l'utin dovrebbe rendere di più però dovrebbe essere lì fk aspetta che scendono e poi mano mano uccideli che è più tempo però è un'alternativa voi secondo voi ditemelo nei commenti è migliore un sistema di soffocamento oppure di killing io con la spada con l'utin 3 perché avete visto ho ucciso un pigman ha dato 3 pepite e un lingotto cazzo con l'utin ciao pigman vedete mi ha dato altre 3 pepite cioè dal triplo quindi dovrebbe rendere molto di più non lo so siamo giunti allora qua ho fatto il percorso come vedete bam qui ho fatto un muro perché qui sotto c'è lo spawn di blades e quello ci servirà per fare la farm di blades quindi l'ho isolato momentaneamente siccome qua cadevo ho messo i magma block così facciamo questo sistema simpatico e perdiamo solo mezzo cuore guardate già i wither 3 wither adesso vi vado a spiegare intanto ammazziamoli ciao merda dai via qua 10 dai 10 uh maz ecco mi ha witherato va bene va bene il cazzo però va bene uguale ovviamente non ci hanno dato una testa nemmeno se i paghi con tutto che abbiamo lo so abbiamo looting 3 sì no sì sì ok allora e qui devo continuare ovviamente qual è la logica la logica è aumentare il più possibile l'area di spawn allora la migliore sono gli incroci in un incrocio a 4 vie dal blocco centrale in teoria l'area di spawn è 9 9 9 e 9 a croce in tutte le direzioni compreso tutto il quadrato 9 per 9 quindi 4 quadrati 9 per 9 in genere si prendono un doppio incrocio e si fanno quindi 4 e 4 8 quadrati 9 per 9 quella è tutta un'area di spawn e se ne può fare lì e una sotto anche a distanza di 3 blocchi e fare una doppia ora di spawn gigante ora io qui non ce l'avevo questa cosa però qui avevo diverse vedete i corridoi paralleli quindi si possono tranquillamente unire e soprattutto contornare almeno di un blocco esterno tutti i vari corridoi unire tutta la parte centrale come vedete pure qui avevo due corridoi li ho uniti qui ne avevo due distanti li ho uniti qui stessa cosa vedete sto unendo ho distrutto tutta la struttura qui c'era una struttura intera col tetto l'ho distrutta tutta qui poi c'era un piano superiore che ho lasciato perché ho fatto le scale lì pure vedete ho aumentato l'area di spawn il possibile lateralmente di uno ho scavato e sono andato lì ovviamente il problema qual è che qui spanono anche pigmen eh ragazzoli miei quindi quello non ci possiamo fare niente però per massimizzare lo spawn in quest'area tutte queste zone intorno andrebbero circondate di slab e adesso lo andremo a fare perché distruggendo tutte le zone di spawn nei paraggi oh e mori nei paraggi ah perché poi c'ho pure diverse bacchette perché ho manzo diverse blades massimizziamo vedete lì spanno un altro wither massimizziamo lo spawn in questa zona rendendo ancora più probabile lo spawn di wither quindi dovremmo andare a ricoprire tutta quest'area in realtà c'è tutto intorno alla zona 120 blocchi tutta quest'area più possibile di slab per non farli spawnare zitto tu cadì giù e mori mazza l'ho shottato non mi ha dato un cazzo grande inoltre qua dovremmo continuare tutto questo corridoio di uno a riare a quell'incrocio andare a fare tutte le zone adesso vi faccio vedere con la cobblestone e il piano superiore che adesso ho fatto le scale per salirci anche dovremmo fare tutto insomma dovremmo aggiustare tutta questa zona massimizzando l'area di spawn e poi andare a mettere tutte slab nelle zone intorno dove è possibile che spawnino pigmen così da concentrare qui lo spawn oltre che di pigmen anche di wither ovviamente quando siamo qui in teoria potremmo anche uccidere i pigmen il problema è che se accaniscono tutti i controlli di noi diventano cazzi poi ucciderli quindi boh non lo so si potrebbe anche in realtà alzarsi con un pillarone lanciare una freccia a 1 tutti si attirati sotto smassacrarli di frecce e gg però si può fare un sistema di killing easy diventerebbe anche una mezza farm d'oro oltre a quella che già abbiamo però boh qui in teoria potrebbero spawnare anche i cast un po' più rari però spawnano e ovviamente i magma block quindi io direi che la prima cosa che andiamo a fare la prima cosa che andiamo a fare è andare a massimizzare questo ponte contorno 1 contorno 1 e abbattere questo perché anche questa è un'area di spawn vedete spawnano i pigmen ci spawnano comunque pure se c'è sto muretto però facciamo tutto un unico livello quindi qui ci sarà da andare a battere una serie di blocchi infinita e andarle a sostituire poi con la cobblestone allargando il ponte faccio sto ponte poi vedete questi blocchi questi qua questi si rompono e si mette in blocco perché me sa che non lo so sicuro me sa che quella essendo poi una cosa fatta così tipo una sbarra non ci possono spawnare quindi levano un blocco del spawn possibile quindi io nel dubbio la levo e ci metto la cobblestone ecco vedete questo è un incrocio per esempio però cioè non è un incrocio che dici vedi quella zona là probabilmente sta zona centrale la posso riempire tutta dei cosi però dall'incrocio è un 9x9 cioè nel senso che ne so metti che questo è il centro no? dell'incrocio qui in realtà è vedete ok tipo in croci sono sempre un 3x3 questo è il centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perfetto fino a qua cioè non è che possono spawnare da altre parti capite? è quello il discorso però in realtà là ce n'è un altro di incrocio quindi per esempio qui al centro è questo 2 3 4 5 6 7 8 9 capito? nel senso qui magari un po' spawnare però a sto punto io qua unisco tutto è quello il discorso anche perché 9x9 oh porco dì ci hai rotto il cazzo e mori quindi spiegato questo adesso riempio tutto taglio il pezzo perché sennò sto video viene 75 ore mi hai dato capito con i tanti e vi faccio vedere poi il risultato finale come vedete ragazzi sparano anche i magma block e ne sto ammazzando diversi perché col piccone nell'altra mano riesco tranquillamente a riprendere integrità come vedete qui ragazzi vedete ho in questo incrocio ho fatto delle piattaformi laterali stessa cosa là ho allargato nei punti così di uno tutto nei contorni qui pure era una sorta di incrocio e l'ho fatto delle piattaforme e qui ho massimizzato tutta l'area di spawn ovviamente lì andranno messe tutte slab in teoria però i blocchi qui di pietra stanno già scarseggiando qui il ponte l'ho tutto terminato e quindi quella ha già un'altra area enorme di spawn ovviamente qui spawneranno anche le blades nonostante non ci siano i cazzo di di cosi perché perché sì perché spawnano anche loro purtroppo e quindi toccherà semplicemente ucciderle oh ecco gli altri guardate i quattro wither what the fuck mate vedete spawnano in gruppi perché più c'è spazio e più evidentemente spawnano uh la madonna ma quanti cazzo siete oh 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 lag lag c'è un altro vieni qua stronzo cazzo c'è anche una figlia di puttana no bene no bene no bene dai e volevi maiale tre colpi mi interessa sta in ricarica mi sta a far cascare sotto e mori e morici affanculo mi hanno troppato manco una testa sti stronzi poi vedete in teoria questo coritoio qua per esempio mettiamoci adesso abbiamo recuperato tutta l'integrità del piccone che è nuovo praticamente qua in pratica col mio piccone op posso distruggere tutto easy easy meglio da creative e qua in teoria penso che se non ne sono sicuro ma qua pure comunque essendo un coritoio qui un coritoio qui è una zona di spawn che posso allargare ovviamente noi non andiamo a fare una farm con una logica precisa nel senso aumentiamo al massimo lo spazio disponibile da questa che ci offre questa fortezza così che poi noi stando qui possiamo tranquillamente andare a farmare avere quantomeno metterci meno a farmare le teste che altrimenti ci metteremo un botto qua per esempio questa parete qua si può tranquillamente devastare ok qui perché va a fuoco boh ah mi stanno sparando da così lontano che non senti i colpi partire e questo è il problema grosso nel lavorare in un ambiente come questo che spawnando un botto di roba sei continuamente bersagliato quello fastidioso è i blaze perché i pigmen sono abbastanza inocchi pure i magma block non è che danno troppe noie e qua buttiamo giù un po' dei muri allargiamo tutto lo spazio così vedete la piattaforma così aumenta da un botto qui per esempio si può tappare qui pure dove continua qua tipo una sorta mannaggia a loro una sorta di balconcino qui pure si può tranquillamente ampliare però vedete sto blocco qui sopra crea problemi perché in pratica essendo qui magari il shank di spawn può non spawn pure lì sopra quindi sto blocco in teoria toccherebbe tutto levallo se no è inutile cioè potrebbero anche spawnar qui ma molto probabilmente spawnano sopra anche se non so sicuro di questa cosa qui se scende ma ce ne interessa poco andrei a fregarmi ne andrei a tappare proprio vedete allargamo così li attappamo e creiamo un'altra piattaforma intanto falla troppi piani non c'ha senso noi sto piano è più che sufficiente stiamo a fare inoltre quello sopra lì quindi non è che dobbiamo andare a far chissà quanti spazi dove farmà sinceramente anche perché voglio dire sta farm è importante ma relativa nel senso ne ho ammazzato 5 6 guider poi bacia nel senso si è vero che i beacon sono sempre una fonte figa anche da portarsi appresso perché se devi scava grossi grosse zone fanno comodo però insomma e qua ok qui abbiamo tutto allargato poi tocca allargare pure qua anche se solo di uno si guadagna sempre una zona di spawn di due blocchi in più pure di qua il muro si può spaccare quella blades mi ha rotto tre quarti di cazzo qua ragazzi si può allargare di uno senza magari che scacce e così via dicendo ragazzi nel senso la logica è quella aumentare il più possibile le zone dove possono spawnare spianare cos'ha e poi niente cioè la logica è questa qua poi ovviamente bisogna aspettare che spawnino nel senso adesso se io per esempio vado laggiù in teoria è probabile che qualcosa sia spawnato però vedete il problema è che spawnano pure un sacco di blades mannaggia la miseria mannaggia guardate là ho 5 wither più grosso spazio più spawnano in gruppi grossi quindi uno va da una zona in altra ampia per ampia e poi mano mano rispawnano a gruppi e vabbè ma quante so uh andiamo ce ne viate qui ragazzi perché me stanno letteralmente a bombardare blades e non ho le frecce quindi me sta sto a prendere un cazzo però sto quanto una casa lo devo andare perché do mori via i blocchi posa quelli che abbiamo perché abbiamo inventario pieno e andà giù the slab ragazzi andà giù the slab però il discorso è sì posso farvi vedere anche sto pezzo taglio faccio vedere con le slab ma secondo me non ha senso adesso molto fare sta cosa nel senso che l'episodio sicuramente era breve però il concetto di farm di wither è quello lì è andare a prendere una fortezza sbragare tutto il vedo sbragabile mura tetti cose cercare di allargare di più le zone le zone incroci andarle allargare 9x9 come ho detto con quelle che formano incroci tutti i ponti singoli allargarli di 1 lateralmente così devo massimizzare la zona di spawn ovviamente non è mai una farm automatica è possibile farla ma è molto complesso io non intendo assolutamente farlo per quello che serve e quindi il discorso è questo puoi mettere le slab il più possibile ovviamente non è dappertutto però per massimizzare al massimo lo spawn lì ovviamente lì spawneranno oltre a quello pigment magma block e e blades è inevitabile non ci si può fare niente il prossimo episodio la vedrete terminata nel senso terminata vabbè insomma aggiustata nel miglior modo possibile qua intanto direi di andare a riattappare sti buchi che avevamo causato prima ok quindi andiamo a posare altri 2000 stack di sta robaccia anche di questa e anche di questa quelle casse rimarranno là finché non finirò sto lavoro perché sicuramente le finirò di riempire una l'ho già riempita l'altra pure la riempirò le slab non saranno le slab si possono fare anche con questo sì no vabbè le slab ragazzi non sono un problema posso veramente riempire tutto il nether le slab quindi abbastanza easy sarà ecco la prima cosa che voglio farvi vedere ragazzi è la farm d'oro come vedete ho aggiunto un piano siccome comunque se vi ricordate mi era avanzata una stack di ossidiano ho detto vabbè ne farm un altro po' un altro due o tre stack posso fare un altro piano anche perché il piano sopra non c'ha bisogno della base perché sfrutta quello di quello sotto quindi è un 23 per 23 meno di stack quindi quasi una stack in meno delle 4,5 o 5 che ce ne vogliono una ce l'avevo e un'altra 3 che ce ho le farm lo faccio tanto c'è da fare solo il cerchio in mezzo altre botole e dovrebbe rendere il doppio off camera ho visto che con un'ora di FK rende più o meno 30 blocchi questa ho fatto un'oretta d'off play però singola dopo che l'ho raddoppiata non ci sono più stati FK quindi dovrebbe essere raddoppiata circa 60 ok col sistema de killing senza perde drop forse arriva a 70-80 non lo so una stack sicuro quindi volevo far poi in futuro questo non so quando qui a fianco un'altra struttura identica di due così faccio 4 blocchi uguali boom 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 vicini e dovrebbe rendere abbastanza stessa cosa per la farm di ferro volevo fare un piano aggiuntivo comunque la farm di ferro ragazzi rende un botto considerate che tutto il tempo che ho lavorato FK alla farm d'oro quindi intorni guardate quanto ha reso comunque sono 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 stack precise 7 stack esottante raga 7 stack esottante è vero che questo è tutto l'FK del lavoro che ho fatto alla farm di fiori qui ci ha messo un bel po' di FK per farle però nel senso è umana se faccio un piano aggiuntivo speculare raddoppio l'efficienza e va benissimo per una semina vaniglia quindi progetti futuri è raddoppiare l'efficienza della farm di ferro raddoppiare anche quella d'oro quindi fare altri due blocchi così di quella d'oro vicino e un altro piano di questa di ferro quanto rendono magari aumentarle ancora se uno vuole di più però aumentare questa tipologia di farm e non quelle troppo OP tipo l'Iron Titan poi guardate un po' che ho fatto lì la casa colorata effettivamente era un po' brutticella devo dire la verità non era granché non morire Alec ok era un po' brutticella ho detto cazzo stiamo costruendo tutti ultimamente con un design abbastanza carino quella era veramente elementare quindi ho detto rifacciamola e così è venuta effettivamente meglio è più particolare quella doveva essere una candelina ragazzi però con il nether ciao jeb t'ho posto jeb te guardi jeb che sguardo intenso e poi niente qui ho fatto un contorno ci ho fatto con la farina d'ossa crescere un po' di fiori un po' di erbette e qui dentro semplicemente il dentro è così è molto figo il vetro verde e qui ci sono le due solide cose shulker box rossa e blu e un letto singolo perché erano tre blocchi andava preciso quindi molto più figa rispetto alla precedente scrivete nei commenti se siete d'accordo e qui niente sono le solide farm per chi non lo sapesse ragazzi questo è il mio angolo della farm di colori bianco verde e quindi poi slime verde slime quello è il nero la farm di squid quello è il marrone lì c'è il rosso rosa magenta giallo quindi arancione e poi basta tirare la farina d'osso questo non abbiamo della valuta e spawnano solo sti fiori azzurri e quindi pure l'azzurro eccetera eccetera almeno se manca il blu con i lavislazzoli ma vabbè e quindi queste erano le modifiche che volevo farvi vedere adesso andiamo a ammazzare quella mucca saliamo a livello 30 facciamo un ultimo incantamento e chiudiamo l'episodio muori mucca oh livello 30 andiamo al tavolo degli incantamenti ok quindi libro lavislazzoli e potenza 4 not bad no potenza 4 vediamo un po' se la mette con qualcos'altro no però è buonissima per l'arco che abbiamo con potenza 1 andiamo un po' allora quindi arco libro 5 soli livelli e va potenza 4 abbiamo potenziato di parecchio l'arco che adesso è abbastanza forte direi con potenza 4 e impatto 2 c'è bisogno di fire aspect ma ce l'abbiamo fire aspect sicuramente ragazzi preferisco infinità per non andare ogni volta a prendere le frecce ragazzi perché tanto alla fine lo riparo con un arco di legno lo riparo totalmente quindi preferisco mettergli infinità che mending mending fino a moce lo ho solo sulla pala e sul piccone devo andarla a riprendere me lo vende il villaggero non è un problema in realtà mi mette sulla spada ma la spada insomma non si sta consumando poi troppissimo anche perché uso spesso l'arco e quindi almeno con una freccia nell'inventario possiamo stare tranquilli che non mi finiscono le frecce come lì nennete soprattutto questo lavoro che sto a fare adesso e quindi niente ragazzi il episodio finisce qui finirò off camera la farm di Wither ve la farò vedere nel prossimo episodio vediamo un po' come rende farmeremo un po' di teste vedremo quanto tempo ci vuole impiegare tot teste e cercheremo di ammazzare anche un Wither non lo so vediamo l'obiettivo sarà quello uccidere uno o due Wither non lo so magari ne uccido uno poi off camera ne ucciderò di più prenderò i beacon e quindi non nel prossimo ma nel prossimo ancora attiveremo diversi beacon andremo a far vedere un po' il funzionamento e attiveremo tutti gli status nel nostro diciamo nella nostra mega nel nostro mega mondo e poi successivamente andremo a recuperare le litra per poi iniziare il progetto della muraglia che avevamo lasciato in sospeso magari tra questi episodi ce ne sarà qualcuno di mezzo tra cui la stalla la farm di pesca e stronzate il genere detto questo quindi ragazzi invito a lasciare un like iscrivervi al canale e vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio un saluto ciao 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 ciao